Sindaco di Lanciano Mario Pupillo, oggi una importante manifestazione a Lanciano per dire no naturalmente alla chiusura dei tribunali definiti minori, quindi anche Lanciano. È stata una riforma che voleva avere due effetti, quella di migliorare i tempi della giustizia e quindi la qualità e poi il risparmio. Dove è stata applicata? In tanti tribunali chiamati cosiddetti minori questi due eventi non si sono verificati e quindi oggi noi siamo qui a difendere l'esistenza dei quattro tribunali minori dell'Abruzzo, in particolare il nostro, che è un tribunale storico più antico con la Corte d'Assise e quindi io penso che dobbiamo lottare su questo argomento e abbiamo ricevuto l'aiuto di tutte le forze politiche che ci hanno sostenuto nella presentazione degli emendamenti. La sorta di questi emendamenti è in bilico in queste ore, probabilmente saranno ripresentati anche nei prossimi decreti che succederanno in queste settimane e quindi noi dobbiamo dare un segnale forte di unione, di capacità di poter respingere questa scelta sciagurata che è un po' come quella delle province, una legge che va a desertificare i servizi contro una criminalità che cresce, soprattutto in un periodo come questo, dove dovrebbe assembrare due tribunali in un altro, cioè a Chieti, quando l'assembramento è un elemento in questo momento da tenere lontano con il problema Covid e con il problema Covid voi sapete che oltre al problema sanitario sarà quello economico e quindi un'economia molto fragile può aumentare ancora di più la criminalità. In più questo tribunale insiste su un'area industriale che è la più grande del centro-sud, e quindi possiamo immaginare i riflessi della perdita di un tribunale da qui a Vasto che priverebbe l'Abruzzo meridionale di qualsiasi presidio di legalità. Questo è veramente un'offesa al buonsenso e su questo noi abbiamo lavorato insieme all'Ordine degli Avvocati, insieme a Silvana Vassali, ma tutti gli ordini dei tribunali interessati, quindi ci batteremo fino alla fine. Oggi è un passaggio, una tappa di questa battaglia che non sarà semplice, non sarà facile, ma noi dovremmo riportare la serenità perché qui da questo tribunale sono uscite personalità importanti e quindi non è detto che i tribunali minori siano di qualità inferiore. Questo lo dico come medico perché faccio il paragone tra i grandi ospedali e gli ospedali minori, significa che dove c'è il cervello non ci sono bisogno di strutture e tecnologie. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, Silvana Vassali, oggi un'importante manifestazione a Lanciano per dire no alla chiusura di questo presidio che è importante per tutto il territorio, per ben 41 comuni del territorio, un presidio di sicurezza che purtroppo rischia di essere chiuso, ma naturalmente si guarda anche al futuro, ad una riforma della geografia giudiziaria. Sì, è così, è importante la manifestazione, ma l'importanza è soprattutto che oggi tutti e quattro i tribunali allo stessa ora faranno la stessa identica manifestazione per stimolare i politici e illustrare ai cittadini che ce la stiamo mettendo tutto, del tutto, per salvaguardare questo territorio. Il discorso non è più come sei anni fa, 2015, quando altri tribunali hanno chiuso. La situazione economica è peggiorata a livello nazionale. Noi siamo nella nostra regione, proprio la zona che viene colpita dalla chiusura di questi quattro tribunali, la zona più produttiva, perché nelle nostre zone ricadono i più importanti luoghi turistici dell'Abruzzo, sia marino che montano, Roccarasso e Revisondoli o la costa dei Trabocchi. E già questo sarebbe sufficiente per poterlo dire. L'economia agricola, l'economia industriale, l'economia marittima. Ora, andare a chiudere quattro tribunali, che dovrebbero invece essere presidio di ripresa e rilancio della economia, significa essere ciechi politicamente parlando. Significa che i nostri politici non conoscono il territorio che loro dicono di sapere amministrare. Non lo sanno amministrare. Ci vogliono ridurre in una situazione di economia sofferente. E allora, noi non stiamo facendo una battaglia per gli avvocati. No, assolutamente no. Stiamo facendo una battaglia per l'economia e il territorio. Se non viene compreso questo, la colpa è di chi non comprende, no di chi parla. Ecco, Presidente. Giovedì lei, insieme ai sindaci, delle quattro realtà che temono appunto rischiano la chiusura, ha avuto un incontro con i parlamentari a Roma. Cosa ha emerso? Ne è sorto che a chiacchiere tutti sono favorevoli al mantenimento di questi tribunali. Ma poi sono sei anni che non hanno il coraggio né di fare la riforma e né di chiuderci. Allora, di fronte a questa vigliaccheria politica di non prendere una posizione netta nei confronti, ripeto, di questo territorio, è chiaro che noi diciamo, signori, vi veniamo a stimolare, vi veniamo a portare proposte, vi veniamo a portare dati numerici, dati di efficienza del nostro territorio e voi di volta in volta, mese dopo mese, vi nascondete dietro un dito dicendo questa volta è il ministro, questa volta è il Parlamento. Di chi è la colpa? Sicuramente non del territorio, ma solo ed esclusivamente di chi non sa amministrare. L'assessore regionale Nicola Campitelli oggi qui presente a questa manifestazione volta a tutelare il presidio di giustizia di Lanciano. Sì, siamo qui per difendere e sostenere la dignità di un territorio. Da parte sud è la regione Abruzzo che produce il 40-50% del PIL regionale, quindi è un territorio che produce ricchezza e noi lo vogliamo difendere a tutti i costi. Quindi noi lotteremo fino alla fine, è l'inizio di un percorso, ma non vogliamo assolutamente mollare. Ed è una lotta bipartisan, perché qui non esistono neanche i colori politici, è una lotta per tutto il territorio abruzzese. Assolutamente sì, proprio per questo motivo noi come regione Abruzzo abbiamo approvato una legge regionale proposta dalla Lega e è stata votata a unanimità, dove abbiamo messo a disposizione un milione di euro per sostenere proprio i costi vivi per mantenere in vita questi tribunali. Quindi oggi non ci sono scuse, i costi per i tribunali ci li prendiamo noi come regione Abruzzo, ma non possiamo abbandonare questo territorio. Onorevole Camillo D'Alessandro, è presente a questa manifestazione che nasce per tutelare questa importante presenza, il presidio di giustizia di Lanciano. Lei ha dato delle notizie incoraggianti a riguardo, lei naturalmente ha un ruolo importante in questa manifestazione perché è il referente dell'Abruzzo nel governo. Il lavoro è complesso, non è scontato, ho cercato di dire e di rappresentare con la verità la situazione alla Camera e al Senato. Io credo che ci siano le condizioni per cogliere il primo obiettivo e cioè la sospensione delle chiusure, quindi prorogare la chiusura, ma lavorare parallelamente all'obiettivo più importante che è quello di evitare che mai più ci si trovi in queste condizioni nei prossimi anni perché le proroghe agiscono di anno in anno nell'ambito di una riforma complessiva della geografia della giustizia in Italia. È un obiettivo più complesso, ci scondriamo soprattutto non con la politica ma con l'apparato burocratico del Ministero che è molto forte e resistente, tant'è che cambiano ministri alla giustizia ma poi il tema sulla riforma della macchina e dell'offerta giudiziaria rimane sempre la stessa. Quindi dobbiamo cercare di smontare questo ganglo che si è irrigidito. Inizia una battaglia fondamentale in Aula, nelle prossime settimane al primo decreto utile che rappresenta il veicolo giusto dobbiamo ottenere il primo obiettivo cioè la proroga. Dopodiché si lavora la riforma complessiva.